hola buonasera a tutti se c'è qualcuno stiamo iniziando la diretta stiamo aspettando che arriva qualcuno aspettiamo se c'è qualcuno se mi vedete per piacere fatemi sapere perché io non lo so se se mi vedete mi sentite fatemi sapere così stiamo aspettando che arrivano altri buonasera mi sentite non mi arriva nessun messaggio non so se qualcuno può condividere me può dire se ok ciao sonia che si vede bene benissimo ciao sonia grazie grazie ok grazie a tutti buonasera va bene iniziamo niente prima volevo dire che il mio scopo per fare per fare queste dirette sempre il fatto di condividere quello che che per me è stato per me il mio percorso spirituale diciamo per me è stato così una cosa che ha cambiato la mia vita così tanto che per me il centro come un io secondo me una responsabilità condividere quello che sappiamo anche se è poco però condividere con con gli altri tutto quello che sappiamo che così così aiutiamo agli altri per me è stata una cosa bella quindi ha cambiato la mia vita e voglio condividerlo ok va bene oggi abbiamo detto abbiamo detto che voglio parlare un po è l'argomento del fatto che uno si sente così male a volte per il comportamento degli altri nei nostri confronti perché ci sono momenti che non capiamo perché succedono queste cose e poi non riusciamo nemmeno a perché di solito è una persona che è più vicina a noi può essere mia madre mio padre i miei figli mio marito la gente che più vicina a me il capo e mi fanno male io non capisco perché e quindi secondo me questo è sempre secondo me questa è come dicevo l'altro giorno è la mia verità è sempre la mia verità e voi potete credere potete non credere perché questo dipende di ognuno ognuno ha la verità che la sua verità cioè quello che in quello che ci credo e questa è la mia è quello che condivido quello che di quello che parlo non è secondo me ci sono tanti punti che che dobbiamo considerare quando parliamo di questo di questo argomento prima di dio ho fatto i miei appunti perché poi dopo mini mi perde un po prima di tutto tutti quanti abbiamo un bagaggio e cioè di quello che ho vissuto io ce l'ho tutto tutto qua dentro ho vissuto da quando erava da quando ero bambina tutto quello l'esperienza che ha avuto tutto 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 quello che è successo nella mia vita e quel bagaglio che che io che sto portando con me anche perché tutto quello che succede noi mettiamo delle etichette a tutto cioè non è solo per dire facciamo un esempio io posso vedere un esempio un po scemo però per farvi capire un bicchiere giallo che cosa mi dice un bicchiere giallo probabilmente nulla nulla di specifico però probabilmente a diciamo a una persona diciamo giulia giulia lei ha avuto una esperienza bella con un bicchiere giallo perché quando lei era bambina la nonna beveva il latte la sera in un bicchiere giallo e quindi per lei l'etichetta che ha messo a quel bicchiere è una cosa bella che la fa sentire bene ma invece diciamo luca lei lui e vedeva quando quando era bambino che il padre beveva il alcol in un bicchiere giallo e probabilmente lui subriaccava non lo so quindi per lui l'etichetta che mette per al pensare al bicchiere giallo è una cosa cattiva che li fa male e quindi così per sto parlando di una cosa no però probabilmente non lo so una strada diciamo un certa certa strada un un angolo una persona ha li ha visto un incidente quindi quella strada per quella persona le ha messo un'etichetta di una cosa probabilmente pericolosa che li fa anche paura ma invece per un'altra persona è diverso perché in quella stessa strada non lo so è stato il suo primo bacio no e quindi è una cosa bella quindi l'etichetta che ha messo a quella strada questa seconda persona è una cosa veramente bella ok quindi tutti quanti abbiamo tutte le etichette di tutte le esperienze che avevamo vissuto e le mettiamo diciamo in una valigia che stiamo sempre portando addosso sempre tutte le esperienze che abbiamo avuto che abbiamo vissuto e quindi questo è importante capirlo perché io reagisco diversamente a te a tutti quanti davanti a una situazione che ho vissuto da un modo e che probabilmente tutti quanti abbiamo vissuto diversamente ci sarà qualcuno che reagisce male o a qualcuno che reagisce bene perché dipende di quello che abbiamo che abbiamo dentro quella esperienza che abbiamo avuto quindi prima di tutto e questo è il primo punto secondo me il primo punto a considerare quando stiamo parlando di questo del rapporto che che c'è tra noi e la gente che sta con noi che che con quelle che stiamo sempre e che ci fanno male le cose che fanno poi quella è la prima cosa io reagisco secondo il bagaggio che ho e anche mi sfogo diversamente se c'è una situazione che mi fa male io posso reagire con un po anche di paura probabilmente o mi arrabio per la situazione e poi quello che succede che io devo e sfogarmi di un modo o di un altro e con chi lo faccio e lo faccio con la persona più giusta per me in quel momento probabilmente in quel momento la persona più giusta può essere la persona che sta insieme a me però di solito quando quando succede questo io mi sfogo per dirlo di un modo con la persona che ha meno potere di me nel senso che se io sono il capo è meglio che io mi arrabio non con il mio capo ma con la gente che sta diciamo sotto per per dirlo di un modo sotto di me o probabilmente con la persona io so che sta sempre con me una persona che che so che non mi lasciarà mai come può essere mia madre come può essere probabilmente possono essere i miei figli questa è una idea che abbiamo quindi senza pensare e nell'inconscio che ci fa reagire così quindi io devo sfogarmi perché io non ce la faccio anche questa cosa che sento che che mi fa male per quello che sto vivendo per quel bagaggio che c'è e quindi io devo e sfogarmi che faccio e devo buttare fuori di un modo ecco lo faccio con le parole io sto arrabbiata e ho bisogno di focalizzare quella rabbia se non lo so fare non lo so fare e lo faccio direttamente con la gente e quella che sta vicino a me quindi quella persona più giusta sarebbe quella che sta più vicino a me quindi perciò è diciamo una cosa comune vedere che il rapporto con la gente che sta più più vicino a me è più complicata per me perché non quella persona non riesce a capire me e io non riesco a capire lei o lui questa è quello che voglio dire nel momento che noi ci sfoghiamo con quella persona non è perché quella persona è mia madre o mio capo o un dipendente o mio figlio è perché è quella persona più giusta perché sta lì perché sta lì e quindi io mi sfogo nel fuoco con quella persona quello non vuol dire che lei che io che non mi piace quella persona o che io voglio farle del male invece quello che io come la persona che che percepisce percepisce quello che diceva quello che sta buttando quell'altra che si sta sfogando io posso pensare dipende anche del mio bagaggio quello che sta facendo lui o lei lo stanno facendo perché non mi vogliono bene perché vogliono farmi del male perché tante 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 ragioni possono possono entrare qui no alla fine è questo che io sto comportandomi e d'accordo al bagaggio che che c'è e così reagisco così e poi dobbiamo considerare questo questo no quindi abbiamo un bagaggio e questo bagaggio e dobbiamo svuotarlo quando soprattutto quando sono sto parlando delle emozioni emozioni più diciamo più cattive non tanto le cose belle perché svuotamo anche le cose belle di questo nessuno si fa problema perché perché così ma anche alcuni poi dopo vi racconto perché lo sto dicendo però diciamo possiamo dobbiamo considerare questo e poi un altro un altro punto importante sarebbe la il fatto che noi idealizziamo alla gente idealizziamo creiamo anche l'aspettativa di pensare che una persona per il fatto che per dire mio figlio deve comportarsi in un certo modo perché mio figlio la madre deve comportarsi in un certo modo quindi io mi metto nella testa una idea che la mia verità un'altra volta torniamo alla verità di ognuno è diversa quindi secondo me e loro si devono il mio capo se deve comportare in un certo modo verso di me e mio marito e le mie amiche e i miei amici tutti quanti io ho un'aspettativa che non mi accorgo nemmeno probabilmente però io ho un'aspettativa e quello che io sto aspettando di avere dagli altri no di ricevere ma invece non è così e io non ho quello che sto aspettando di avere e che succede mi sento di lusa perché non mi aspettavo quello però gli altri stanno stanno facendo quello che se quando il loro bagaggio dice di fare e dice a loro di fare quindi alla fine è così io mi comporto del modo che io penso è più più giusto perché così è la mia verità e poi un'altra cosa questo è un altro punto un altro punto ancora è il fatto che probabilmente io mi sto comportando secondo quello che è la mia verità però è anche quello che voglio secondo il mio ego perché non è detto che io sempre sono consapevole di quella che è la mia verità o quello che sto portando nel mio bagaggio quindi io voglio avere sempre ragione perché il mio ego è così mi sta dicendo tu devi avere ragione perché 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 sei tu e perché quello che tu pensi è quello che è giusto quindi quando arriva un altro che sta contro quella mia verità io a me non piace è difficile dire è difficile per noi dire ok va bene tu hai ragione o probabilmente hai ragione questa è un'altra cosa importante perché alla fine molte volte noi abbiamo sappiamo che non abbiamo ragione ma comunque io devo nessuno mi può spostare del mio posto dove ho la verità dove ho la ragione è così è un comportamento anche molto umano però qua sta dentro l'ego l'ego è molto forte per noi dobbiamo essere consapevoli che c'è l'ego e così possiamo anche metterlo è come la paura non è che noi siamo umani e ci deve stare ci sta sempre l'ego ci sta la paura questa non la possiamo eliminare così semplicemente dobbiamo imparare a metterli di lato loro possono stare di lato ma non qua davanti non possono reggere la nostra vita perché noi lasciamo la paura è l'ego di stare qua davanti invece di metterli qua e quando ho bisogno lo prendo o lo lascio stare un po' più vicino a me e quando non ho bisogno ti lascio lì e io sono quella che guida la mia vita non la paura non l'ego però è molto facile diciamo cadere in questo stato di ego di paura questa è un'altra cosa che penso è importante considerare poi abbiamo anche il fatto che idealizziamo questo l'ho detto già l'empatia questa è una cosa molto bella l'empatia quando noi siamo consapevoli di tutto di tutto questo questo che la gente reagisce a certe situazioni secondo quello che la gente ha vissuto perché non è che voglio essere cattiva semplicemente è che sto e sto portando fuori quello che c'è dentro e noi non sappiamo in spagnolo c'è un detto che dice che ogni 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 testa è un mondo e anche tu puoi vedere una faccia però tu non sai che cosa c'è dentro nel cuore di quella di quel volto che tu stai guardando perché non si sa mai no e probabilmente anche il modo di reagire della gente come avevo detto prima è un modo di mettere un diciamo come un non so se si dice scudo un coso per proteggermi e quel coso metto lì la paura che ho e quello è un riflesso della mia paura non è che io sono diciamo così perché voglio farti del male e la mia paura e la mia mancanza di amore quindi voi sapete che le persone che si comportano così più che sono più difficile di capire probabilmente più per dirli e cattivi diciamo sono quelli che hanno più bisogno di amore per quello che che loro hanno vissuto è salto cada capire sul mondo grazie paola e così e quindi l'empatia l'empatia quando quando noi capiamo l'empatia secondo me uno dei punti vacilari per 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 stare meglio per imparare per per alzare la la propria vibrazione no e l'empatia è molto importante però per capirla dobbiamo approfondire molto nel fatto in tutti questi questi cose di quello che sto parlando anche quello che no che non ne sto parlando perché sono tante tante cose che che alla fine vanno insieme no e poi è un'altra cosa ok sto leggendo un attimo solo e questo l'ho detto già ok è un altro punto importante e non giudicare è anche questo però il fatto di non giudicare quando tu hai capito perché succedono le cose perché una persona si comporta così è più facile per te anche non giudicare io vi faccio un esempio mio padre mio padre se ne è andato nel 2011 però lui guardate io non capivo perché quando io ero bambina lui si comportava molto era molto serio non mi coccolava mai e io sentivo che avevo bisogno di sentire una carezza un abbraccio di mio padre perché lui era così serio e sembrava tosto e mi faceva anche paura avvicinarmi a lui e io non capivo perché lui era così poi più più avanti nella mia vita mi mi sono accorta perché lui era così guardate lui la sua e lui è stato figlio unico e mia nonna a mia nonna e miei miei nonni avevano perso due figli prima di mio di mio padre quindi per loro avere mio padre è stato una cosa un regalo per loro e loro prendevano così tanta cura di lui che non lo facevano fare nulla che poteva essere mettere a lui in rischio quindi potete immaginare che come erano loro però mia nonna non era neanche coccolava mio padre neanche mio nonno nessuno di tutti e due erano molto e loro pensavano che se loro facevano capire a mio padre che lui doveva studiare per essere qualcuno nella vita per essere forte e loro pensavano che così era il modo migliore di farlo e loro lo facevano studiare della mattina alla sera l'hanno messo a studiare anche la musica non lo lasciavano avere amici perché secondo loro i amici non facevano bene perché ti facevano perdere il tempo tu dovevi studiare dovevi approfittare il tempo e capire e imparare di più tutto e anche di più quindi mio padre che succedeva e lui aveva bisogno bisogno di sentire questa questa coccola queste queste amore dei genitori e lui sentiva solo la pressione che doveva essere il migliore doveva studiare poi dopo è così io ho capito perché lui si comportava così perché mia nonna era così e quando io mi sono chiesta ma mia nonna perché era così e poi vado un po' indietro e lei ha perso la mamma quando lei era una bambina era molto piccola quando ha perso la mamma suo padre era un militare e si comportava come militare a casa è tutta una storia così però alla fine tu capisci perché mio padre aveva questo comportamento verso di me e quindi quando io ho capito invece di sentire rabbia o disagio verso lui io mi sentivo anche con compassione perché avevo capito che lui quello che voleva era avere amore ma non sapeva come esprimerlo e poi mia nonna io alla fine non capivo perché mia nonna si comportava così se se lei aveva il figlio che voleva ma che è successo che lei aveva un padre così quello che ha vissuto con il padre quindi è una una conseguenza una cosa tra un'altra no qua mi fermo un attimo perché voglio prima salutarvi e poi anche leggere i commenti perché io per me è molto importante e avere una partecipazione di tutti e due no perché io io voglio anche imparare da voi e sonia ciao sonia ti ho salutato prima senti bene grazie Rosana ciao per ciao Enza Ilaria buonasera Rosana Ilaria buonasera Enza ok Mariela ciao Mariela cara come stai ciao da Maria Paola si cara a Cabeza del Mundo quello che abbiamo letto Ilaria perché quando ripuliamo nostre credenze limitanti si sente male non ho capito bene la domanda ripuliamo le nostre credenze cioè vuol dire cosa vuoi dire è Ilaria nel momento che e poi spiegare meglio forse sono io che non ho capito puoi rifare la domanda e Ilaria per piacere ok a volte essere empatici non è facile perché ti sente troppo la sofferenza altrui sì è vero è vero è difficile molto difficile perché è quello che dicevo io no è vero che io voglio capire all'altro no a quell'altro voglio capire quello che sta succedendo nella 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 vita nella loro vita e quel bagaglio che stanno che stanno che hanno addosso però anche io ce l'ho e anche io mi sento male però alla fine quando io riesco a capire no che loro non stanno facendo le cose per farmi del male perché questo è un pensiero che abbiamo che abbiamo io penso a tutti lui si sta comportando male perché no mi vuole bene e non è così non è mancanza di amore quindi quando io sento che che lui non mi vuole bene perché io penso che è così quindi inizio a pensare e fare fare un'altra storia un'altra storia che non c'entra nulla sicuramente non c'entra nulla con quella che è la verità e la verità sua invece io mi faccio un'altra storia un'altra un'altra verità adesso adesso voglio continuare con i punti e ti racconto un'altra cosa ciao guetano come stai mariella ogni persona ha un background attraversato tempeste uragani battaglie tu non sai nulla perciò rispetta la persona si umile certo sappi dire grazie mi dispiace non era aspetta non era nelle mie intenzioni un ego smisurato non lo consente accentra tutta l'attenzione solo sulla sua persona non avendo cura di rispettare il prossimo con unità questo è molto molto vero mariella è così perciò è quello che dicevo io all'inizio anche non so se l'ho detto però dobbiamo dobbiamo veramente essere aperti e quello che dicevo l'altra volta del fatto della lampada che dobbiamo pulirla pulirla un po per capire che ci sono altre opzioni e dobbiamo essere aperti se io secondo me tutti quelli che stiamo seguendo un percorso spirituale siamo consapevole che dobbiamo essere aperti altrimenti nemmeno ti metti a sentire nulla nemmeno ti metti a sentire queste direte non ti metti in una pagina come questa non lo fai perché perché non è una cosa che tu sei disposto a fare ma invece noi che siamo disposti a farlo e possiamo avere una mente più aperta abbiamo l'opportunità di cambiare certe cose ed è anche anche di capire perché stanno succedendo le cose no e sì l'ego è un ego smisurato è come tutto quando non c'è un equilibrio stiamo in un estremo e troppo o niente non va neanche bene non va neanche bene quindi dobbiamo controllare il nostro ego essere consapevole prima di tutto che c'è perché se io voglio avere ragione sempre è ok va bene voglio avere ragione sempre però avrò sempre il problema con tutti e l'umiltà è un'altra cosa anche che dobbiamo avere per forza perché per non eliminare perché non si può eliminare però fare spostare l'ego per spostare l'ego e dobbiamo essere umili altrimenti non si può fare no ciao paola ilaria quando cerchiamo di ripulire il nostro inconscio sentiamo male e sì adesso ho capito bene scusami per prima sì perché stiamo sai sai è come un come un iceberg tutto quello che riesci riusciamo a capire diciamo quello che sta sopra ma quello che sta sotto è molto molto di più e quando noi iniziamo a entrare un po dentro di quella parte che non vediamo quell'inconscio troviamo anche dei mostri di tante cose perché non 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 siamo abituati a averli perciò perciò adesso quando quando è successo il primo lockdown tanta gente sentiva così male perché no non il fatto di essere forse forse da solo o di avere il tempo di stare con te stesso ti fa paura perché ti senti male perché non sai a che cosa viene incontro perché non non ci conosciamo e quella quella è una cosa che che fa paura e ci fa sentire male e per ripulire il nostro inconscio dobbiamo conoscerlo prima dobbiamo vedere che c'è che c'è là dentro non è facile non è facile e dobbiamo vedere diciamo aprire quella valigia e prendere le cose che stanno dentro e controllare quello che che c'è che c'è che mi fa chi fa male o a volte non voglio nemmeno vederlo come se non fosse lì lo ignoro totalmente no rosana marinelli purtroppo da bambina non capivo queste cose quando si comprende la situazione dei genitori si è diventato adulti e poi io ho già persi perché sono morti giovani mi dispiace mi dispiace rosana aspetta che non riesco a vedere perché altres è scritto mia madre diceva non riesco a vedere perché non riesco a aprire che nema diceva che non mi voleva e ma guarda che è un'altra cosa che volevo dire e hai ragione a volte però è questo parte del tuo bagaggio adesso adesso è tuo e quindi questa situazione tu come hai detto tu è perché non l'ho capito prima no forse se lo capivo prima e quindi non non mi faceva così male però c'è un'altra cosa molto importante rosanna secondo me il fatto che il fatto che noi abbiamo deciso di venire in questa in questa vita in questa terra di essere umani abbiamo deciso di farlo noi è stata la nostra decisione e dobbiamo anche rispettare quella parte che cosa vuole dire con questo io ho deciso di venire qua ho deciso di avere tutta l'esperienza che ho avuto e che ho con la gente che sto adesso adesso io l'ho deciso insieme a loro perché per avere un'esperienza per avere per capire tante cose per quello che ho bisogno di imparare perciò la mia esperienza ho deciso io di venire qua di avere quella esperienza e di stare con quella gente che sto che sto io ho scelto mia madre ho scelto i miei amici ho scelto tutti anche se io sapevo prima che questo era per avere un'esperienza quindi alla fine devo ringraziare anche a loro per farmi avere tutte queste cose che non mi fanno bene questi sentimenti di dolore perché alla fine loro mi stanno aiutando a avere la mia esperienza e io sto aiutando a loro diciamo è una cosa reciproca perché perché è così quindi è una cosa che io ho deciso anche io ho deciso di avere quell'esperienza ho deciso di avere un non lo so un capo che mi doveva far vedere certe cose di vivere certe cose di avere un'esperienza certa esperienza per per capire altre cose no ok anna maria è molto difficile parlare di umiltà ognuno ha una propria visione di essa sì è vero e come dicevo prima la nostra verità è sempre la verità di ognuno è diversa essere umile potrebbe anche significare conoscere se la persona che mi sta di fronte a una conoscenza superiore sì alla mia e dunque inchiarsi e semplicemente ascoltare ciò che ha da dire e da insegnarmi certo come no come no è così è così ma comunque secondo me è quello che dicevo io non solo la gente che ha una conoscenza superiore mi può fare imparare ma tutta la gente che sta vivendo con me che sta insieme a me che sta condividendo la mia vita mi fa imparare mi fa imparare tante cose perché anche una persona che sembra che non sa nulla che mi fa male mi fa imparare mi aiuta imparare l'importante è che noi possiamo diciamo dividere dividere quelle cose che mi arrivano e capire ok questo mi sta facendo bene questo lo prendo lo prendo lo faccio lo metto dentro della mia verità e questo mi fa male questo no questo non voglio averlo dentro e quando lo metto di lato però alla fine noi tutti siamo maestri di tutti noi tutti siamo maestri di tutti e quindi stavo dicendo torno poi dopo quello che stavo dicendo di dei punti che dobbiamo considerare quindi alla fine è così quando una persona si comporta male con me è quello che penso io che si sta comportando male devo considerare tutto questo prima questa persona non lo fa personale non verso scusate non contro di me lo sta facendo perché è il suo bagaggio che ha le sue paure ci sono tanti ragioni però alla fine non è una cosa che sta facendo contro di me e le cose che ha qua dentro e che sicuramente per quella persona la sua verità è totalmente diversa della mia per esempio io adesso sto qua in questa in questa stanza io riesco a vedere quello che vedete voi è molto diverso a quello che vedo io anche se mi giro è diverso e stiamo nello stesso posto diciamo però io vedo da questo angolo e ognuno ognuno vede da un angolo diverso quindi la verità di ognuno è totalmente diversa quindi io devo capire o mi capire il fatto che quello che sta facendo che stanno facendo gli altri lo stanno facendo perché quello che loro hanno dentro io devono svuotare quello e si comportano d'accordo a quello che è la verità loro non dipende da me è quello che voglio dire l'importante è che noi non dobbiamo prendere un ruolo che non è nostro io posso ricevere una parola di una persona però quella persona la sta sta parlando da dentro e la sta dicendo perché quello che sente probabilmente non la sta dicendo perché sta parlando contro di me ma perché quello che sta buttando fuori e come dicevo prima le persone più giuste sono quelle che stanno più vicini quanti di noi non abbiamo avuto problemi con il capo è un diciamo che è un ruolo molto quasi può capire molto bene perché è un capo ha il potere di parlare di dire quello che vuole dire e tutti quanti devono stare zitti quindi per una per un capo non ne sto parlando che tutti i capi sono così no quello che sto dicendo è che la persona più giusta dove io mi posso sfogare sono i miei dipendenti e la gente che sta vicino a me la gente che mi sente che che deve stare lì a sentirmi o la gente che la famiglia no perché probabilmente io non posso nella nel mio ruolo della società non mi posso sfogare perché perché non devo farlo perché non mi conviene farlo quindi però è questa una cosa totalmente nell'inconscio io non mi sfogo fuori perché non mi conviene quindi quando arrivo a casa e quando posso finalmente svuotare tutto perché a casa lo posso fare e tu puoi dire è sì però stai parlando che stai facendomi male mi fai sentire male quando arrivi a casa i figli la moglie marito che ne so però il posto più facile dove io mi posso mi posso sfogare posso buttare tutto fuori e a casa con questo io non sto dicendo che tu devi stare cita e non devi vedere nulla si arriva a casa e mi urla e mi parla male io non mi sto dicendo questo ok quello che sto dicendo solo capire perché succedono le cose questo è diciamo la ragione e poi un'altra cosa è come devo come devo reagire per per controllare quello prima di tutto qual è il la forma che la gente riesce a percepire me come come percepiscono me e questo è molto importante perché se io sento che devo che devo essere una persona che deve ricevere quello che non mi piace nel senso che non mi sto spiegando bene in questo momento quello che voglio dire è un po difficile perché esprimermi in italiano per me faccio fatica perciò scusatemi perché non è così così facile però quello che voglio dire è quando quando io mi sento male quando io sto sentendo qualcosa dentro la mia energia la butto fuori e metto quello che sto sentendo si espande quindi io sto arrabbiata con una persona diciamo mettiamo di esempio al capo io sto arrabbiata con il mio capo perché arriva e mi urla e non mi piace e quindi io sto arrabbiata quella quella energia di rabbia che ho verso di lui è un'energia che si espande emane e quindi la informazione che io sto mandando a lui è la stessa che io non voglio ricevere da lui quindi che succede che si crea un cerchio tu ti arrabbi con me mi urli io sto arrabbiata anche se non posso urlare la energia che ho la rabbia che ho verso il mio capo la sto espandendo la sto emettendo fuori e quindi io sto mandando a lui questa rabbia che sento e lui la percepisce e quindi lui si comporta d'accordo a quella rabbia che io ho quindi lui arriva mi urla io prendo tutta quella cosa che non mi piace la prendo la faccio mia e poi la butto fuori se io inizio a capire prima che lui si comporta perché è un problema suo non è mio e io faccio diciamo come se fosse un teflon e non permetto che quella cosa che sta buttando verso di me entre io inizio a stare più tranquilla e quello che io emetto verso di lui non sarà quella rabbia che lui sta emettendo verso di me non so se mi sono spiegato non lo so mi potete dire se ok torno indietro per ok non solo un attimo parlare di umiltà ok mirella rettano l'umiltà sta in silenzio l'ego urla e parla si interrotta e sì ma tanto è vero tanto l'ego è quello che è l'ego mette all'umiltà da parte e quindi quella è la prima cosa perché per esempio se io sto parlando del del capo no ma io non ce l'ho l'umiltà di dire io voglio provare a capire anche se lui mi sta facendo male provo a prendere la mia umiltà e capire prima di tutto perché lo sta facendo non non significa con questo che io lo cambierò mai non mi permetterei mai perché io non lo posso fare non sono io la persona che lo posso solo lui però io sono la persona che voglio decidere di accettare quello che lui mi sta buttando o non accettarlo e la mia umiltà può dire va bene io voglio capire che lui è così e io non lo lascio entrare la mia umiltà mi dice questo invece il mio ego mi dice a no ti ha fatto male tu lo devi devi fare qualcosa non è possibile lui non ti può trattare così però in un senso è vero che non ti può trattare così è vero però è il modo di reagire mio non è non è diciamo quello guidato con la umiltà ma con l'ego e questo cambia tutto grazie è vero ogni persona anche al risposto di superiore io conosco solo il mio nostro dio entità superiore suprema di amore vero puro incondizionato non solo declamato ma messo in pratica con il prossimo i veri insegnamenti i veri insegnamenti aspetta ho perso scusate che ti ho perso ok di superiore io conosco solo il mio nostro dio entità superiore suprema d'amore vero puro incondizionato non solo declamato ma messo in pratica con il prossimo i veri insegnamenti sono quelli divini l'uomo è un essere imperfetto può solo esistere un rapporto reciproco di rispetto e di integrazione anche il più umile può essere una fonte insaurita di riconoscenza di esperienza se penso ai noni alle loro verità ai detti antichi come sono attuali al giorno di oggi si è vero mirella penso che umiltà significhi anche riconoscere qualcuno superiore a noi certo come no che possa essere un medico un insegnante un maestro spirituale sì sì tu lo puoi sì sono d'accordo con voi totalmente sì l'unica cosa è che sono superiori però siamo la stessa cosa alla fine siamo tutti uguali qua nella terra anche se un insegnante se un medico tutti siamo uguali tutti tranquilla ti esprime bene complimenti grazie grazie Anna Maria veramente ti ringrazio perché è molto difficile a volte perché non riesco a esprimere perciò a volte faccio veramente faccio fatica perché vorrei vorrei dire tante cose e non riesco ancora con te se si umili nel profondo si accettano le critiche sì è quello guardate che i miei figli hanno una teoria che c'è loro hanno messo hanno messo le hanno messo il nome a un diciamo a una a una non un personaggio ma hanno detto quel ego hanno detto il nome di Jerry Jerry sta quando loro stanno per esempio a loro piace molto parlare a fare argomento di diverse cose mettono a discutere delle cose e quando uno vuole quello che sto dicendo io quello che vale di più loro dicono e Jerry che sta e Jerry un'altra volta quindi essere consapevole che che io non sono io quello che sta parlando ma è l'ego è l'ego che sta l'ego è una cosa così da lavorare ma veramente Mariella vogliamo parlare di coloro i quali sono abituati a chinare il capo come poveri ipocriti per acquistare la simpatia nel posto in prima fila davanti a falsi profetti diciamo più spesso ok guarda che alla fine con tutto il rispetto Mariella però io secondo me è acqua un'altra volta stiamo giudicando no e questa è un'altra cosa molto difficile di non fare non giudicare perché non sappiamo non sappiamo anche guardate il più il più cattivo la persona più cattiva e sta dimostrando mancanza di amore sta dimostrando che ha bisogno sta urlando ho bisogno di amore è molto molto complicato ciao Giulia buonasera e quindi stavo dicendo alla fine è così capire che sta succedendo se io voglio essere un recettore di quello che la gente fa contro di me quindi sono persa mi perdo lì dentro mi sento male anche faccio delle storie no eh sì sicuramente si comportò così perché pensa che io non valgo nulla perché non mi vuole bene perché perché posso fare una storia totalmente così grande no che mi fa solo male però sì invece io dico va bene tu stai comportandoti secondo la mia verità sempre anche perché quando c'è ci sono due no diciamo due persone che stanno litigando per una cosa qualsiasi cosa sia e questa persona parla con i suoi amici di quel problema e ti racconto quello che io secondo me è quello che sta succedendo e ti sto dicendo quello che quell'altro sta facendo male che non sta facendo bene invece quell'altro fa la stessa cosa parla con i suoi amici e racconta tutto quello che quell'altro sta facendo male e alla fine tutti i due gruppi di amici pensano d'accordo a quello che hanno sentito dell'amico che ha parlato no? però la verità qual è la verità in questo caso la verità è quella che che ognuno ha una verità diversa non è detto che la ragione la ha uno non è detto che la ragione la ha quell'altro però ovviamente io parlo di quello che è la mia verità e ti posso convincere anche che quell'altro sta facendomi male mi facendomi del male e tu adesso hai una idea probabilmente è sbagliata o no della persona che io ti sto parlando perché tu stai sentendo me non stai sentendo quell'altro quindi sono diverse versioni e non si sa qual è la verità diciamo è quella che ognuno ha quindi io non è che quando io mi sento male perché uno sta parlando mi sta facendo male perché io lo sento questo lo so mi fa male possiamo fare tante cose possiamo prima non dobbiamo permettere sentirci male che io so che mi sto sentendo male per una cosa che una persona sta facendo contro di me io il fatto che io mi amo imparare a amarsi è difficile anche però se io mi devo amare non devo permettere che succeda una cosa del genere che devo fare io non lo posso cambiare perché quella persona è così è così prima di tutto prima di tutto non non pensare che la cosa che sta facendo contro di me la sta facendo perché non perché non mi vuole bene perché vuole fare del male prima di tutto capire questo capire che quello che sta facendo è parte del bagaggio che ha parte dell'etichetta dell'esperienza che ha e quindi lo sta facendo perché pensa o nemmeno lo pensa semplicemente sta svuotando quello che le fa stare male che non le fa bene è quello che fa e quando io capisco questo quindi non lo vedo come una cosa contro di me come una cosa personale contro di me ma invece come una cosa che sta facendo perché la vita lo ha portato a fare quello a comportarsi così no quindi quella è la prima cosa e come dicevo prima quando io ho capito questo e poi capisco anche che io devo imparare una cosa da questa persona devo provare a capire che cosa è che devo imparare perché probabilmente se io quella esperienza che sto avendo con quella persona che mi sta facendo male quando io la capisco la imparo e vado avanti e quindi provare a capire che cosa è quello che devo imparare e alla fine mi devo mi devo mettere da parte cioè nel senso che se io riesco a non 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 si può fare sempre dipende dalla persona no? però se una persona con quella che non devo per forza stare vicino a questa persona mi posso separare cioè la mia vita dividerla e non condividere con quella persona tante cose separarmi un po' perché così non devo infrentare queste cose no? se è possibile se non è possibile comunque il modo di reagire il mio modo di reagire deve essere più consapevole nel senso che se io inizio a parlare male di quella persona l'unica cosa che sto facendo è alimentare quel cerchio che io voglio rompere e alimentare quel cerchio vi giuro che quando tu inizi a pensare diversamente hai un pensiero positivo verso quella persona e spesso lo faccio invece di pensare cose cattive verso quella persona inizio a pensare cose positive quella persona inizia a cambiare perché quella energia che io emetto verso lui o lei quella energia che io emetto è una cosa che quella persona può percepire può ricevere e poi piano piano quella persona inizia a se non cambiare perché quello non lo scopo è non farlo cambiare però inizia a diciamo a passare quel livello di di attacco verso di noi si tranquillizza diciamo succede così però se io continuo a ricevere e continuo a reagire nello stesso modo non si finisce mai non finisce mai e io devo quasi quasi finire qua però io volevo leggervi una cosa che ho letto qua guardate che alla fine tutto dipende tutto quello che facciamo tutto il modo di reagire tutto dipende dell'amore che abbiamo verso di noi e dell'amore che abbiamo verso gli altri e non è a volte facile però io vorrei leggervi questo questo è in spagnolo però l'ho tradotto solo l'amore reale Brian Weiss mi piace molto questo guardate che cosa sta scritta qua l'amore è la risposta a tutto l'amore non è un'astrazione ma un'energia di verità comincia ad entrare in contatto con Dio dentro di te senti l'amore esprimi amore l'amore scioglie la paura quando si sente l'amore non si può avere paura di nulla poiché tutto è energia e l'amore comprende tutte le energie tutto è amore cioè nel senso che tutto è amore anche se sembra che non è così tutto è amore e poi abbiamo finito concordo con te Gaetano se sei umile nel profondo si accettano le critiche vogliamo parlare di coloro i quali sono abituati a questo l'abbiamo detto l'abbiamo già letto buonasera Gaetano grazie per aver messo tanto sembra che tu stia dando giudizi io mi sono un po' persa ok buonasera Alba ok va bene io vi mando un abbraccio a tutti a tutti a tutti e dobbiamo capire altre altre cose va bene ok vi ringrazio e vi abbraccio veramente vi abbraccio e alla prossima buona serata grazie a tutti un bacio adesso finisco adesso finisco grazie a tutti